Partita che non finiva mai, finita di sperimentare quella tra la navigazione contro la Guardia di Finanza, per me c'è Panzani della navigazione, il bomberone, Panzani ha siglato un gol dalla metà campo, lo sei studiato, l'avevi trovato in allenamento in settimana. Ma diciamo che c'era il mio difensore che mi tocca e mi dice, ma guarda un po' che il portiere è fuori, dico guarda così quasi faccio il pallonetto, poi c'è una cagata, però è andata bene, poi però è andata a male la partita, vabbè dai alla fine ci siamo divertiti, tra virgolette, e vabbè ci rifaremo l'anno prossimo. Ma raga cos'è mancato? Perché poi alla fine comunque al di là di tutto era una partita abbastanza colibrata, forse eravamo fin troppo convinti o di arrivare a rigore di vincerla e quindi niente, si sa che ogni tanto il calcio è strano, è andata male, fa niente dai. Ma sì ragazzi, partefica tutti per l'anno prossimo. Certo, porto a navigazione sempre.